Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Mau, oggi siamo qui per andare a completare la terza missione delle sfidei Travis Scott E così puoi ottenere il suo balletto gratis, strafigo ragazzi, già se qualcosa è gratis, GG, ci sta un botto E poi se della collaborazione Travis Scott ci sta ancora di più Questa missione, ultima, veramente semplice, che comunque ci regaleranno anche uno standardo Ci dirà, visit the stage north of Sweetie Sands Quindi significa, visita lo stage, quindi musicale, a nord di sabbie sudate A questo punto noi siamo qua, sabbie sudate, dove stanno costruendo il concerto Ci dirigiamo proprio lì, piazziamo questa bellissima jump Vuodiamo direttamente, come potete vedere qui, si vede veramente tanto l'inizio di questo palcoscenico Veramente easy, in questi giorni si andrà, diciamo, a ingrandire sempre di più Ragazzi, semplicemente dovete andare a visitare, atterrate, potete fare quello che volete Guardate ragazzuoli, semplicissimo, fate così Ecco qui In questo caso la missione verrà già contata, che comunque l'avrete visitato E avrete ottenuto l'emote veramente bella di Travis Scott Spero che questo video vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare il like, commento, iscrivetevi a condividere i video ai vostri amici Supportami interno ai ghost oggetti di Fortnite Col codice creatore, social, 3trimolo, 3trimps.t E noi ci becchiamo in un prossimo video, bella